Adesso vediamo insieme come funzionano queste luci da piscina. Io in realtà, come è ancora un pochino presto, come stagione, farò la prova con una bacinella dopodiché metterò l'acqua. Ho messo le tre pile mini stico all'interno, le due ventose, queste almeno attacchiamo la luce sotto e proviamo a mettere l'acqua. Dopo aver bene stretto il coperchio, all'interno c'è una guarnizione che dovrebbe appunto impedire all'acqua di entrare all'interno. Una volta che abbiamo chiuso, attraverso il telecomandino proviamo ad accendere e come vedete la luce è completamente immersa e funziona. Abbiamo diverse tipologie, anche di settare i colori mezzi e in mezzi. Due ore, quattro ore, sei ore, flash, dimmeraggio. Devo dire che funziona abbastanza bene. Vogliamo spegnere la luce. Ecco, l'effetto sicuramente merita. Quindi non vedo l'ora di provarlo con la mia piscinetta da giardino montabile. Più che altro perché può fornire una bella atmosfera. Potrebbe anche essere utilizzata all'interno delle docce. Buon prodotto! Buon prodotto! Grazie.